benvenuti in questa nuova puntata di come fare un podcast io sono zap e oggi parliamo della registrazione con più voci infatti un grosso problema che ho avuto io in prima persona quando ho iniziato a registrare podcast e che tutte le guide sia in italiano sia in inglese spiegavano quali attrezzature e come registrare un podcast in solitaria infatti il problema è che nel programma dipen le voci sono due la mia e quella di ball quindi inizialmente abbiamo imparato a registrare un po in modo autodidattico quindi provando e perdendo un sacco di tempo per post produrre una puntata che in questo momento impiego meno della metà del tempo per registrare e montare quindi con questa puntata ti voglio dare alcuni piccoli consigli su come registrare se siete più di una persona innanzitutto quello che facevo io era quello di registrare la mia voce con un dispositivo e con un microfono e la voce di ball con un altro dispositivo e un altro microfono questo lo facevo con l'obiettivo di poter scendere le due tracce audio e poterle modificare e montare successivamente in modo da avere un audio ottimale sia per una voce che per l'altra ma questo implicava una perdita di tempo veramente insopportabile infatti c'erano svariati problemi derivanti da questa routine di registrazione e i problemi erano principalmente che prima di tutto il file registrato da ball poi doveva essere caricato e condiviso su drive o su altre piattaforme in cloud per poi essere riscaricato modificato montato post prodotto montato insieme alla mia voce che anch'essa doveva essere post prodotta modificata e montata erano mille passaggi per ottenere ciò che adesso faccio in due inoltre il fatto che registrassimo con due dispositivi differenti portava le nostre tracce audio ad essere in parte sfasate con i tempi infatti ad un certo punto della registrazione l'audio di ball era sempre un minimo ritardo rispetto al mio e quindi si iniziava a sentire un certo eco e secondo anche sincronizzando perfettamente le due tracce audio era inevitabile l'ingresso della voce di ball nel mio microfono e viceversa e questo provocava anch'esso una sorta di eco all'interno del mio audio ora come ora utilizziamo ancora gli stessi microfoni che utilizzavamo nella primissima puntata ma abbiamo trovato un modo migliore per registrare ovvero quello di usare un solo microfono messo al centro esattamente tra le nostre bocche a una distanza che può essere variabile ma non è fondamentale perché il microfono che ti ho consigliato nelle primissime puntate è un microfono a condensatore omnidirezionale e quindi riesce comunque a captare bene le nostre voci anche ad una certa distanza e in questo modo otteniamo una traccia audio che poi andrà ad essere post prodotta come ti ho detto nelle prime puntate quindi tramite compressione e normalizzazione e in questo modo riusciamo ad ottenere un audio qualitativamente buono avendo dimezzato sostanzialmente tutto il lavoro di post produzione che eseguivo prima un altro vantaggio è che se avete acquistato questo microfono o anche un altro microfono omnidirezionale chiaramente io vi parlo di questo perché lo conosco bene e l'ho utilizzato e ve l'ho consigliato e quindi posso dirvi con certezza che anche registrando con più voci sempre tutti alla stessa distanza dal microfono potrete registrare anche più di due voci senza alcun problema e senza dover acquistare apparecchiature costose e difficili da usare ovviamente questo vale per il discorso della poca spesa e tanta resa infatti quando andremo a fare un upgrade della strumentazione per il nostro podcast sicuramente andremo a acquistare una scheda audio con almeno quattro ingressi audio e quindi con quattro diversi microfoni che ci permetteranno di ottenere una sola traccia audio o di dividere anche le tracce audio se lo volessimo e di ottenere una qualità superiore con lo stesso tempo di post produzione quello che vi consiglio però se siete in due è di acquistare comunque due microfoni perché nel momento in cui non potrete essere nella stessa stanza in ogni caso avendo due microfoni uguali potrete registrare il vostro podcast a distanza per registrare il vostro podcast a distanza non vi serve altro che un telefono cellulare o un computer che vi permetta di chiamarvi sostanzialmente per sentire l'audio dell'altro attaccato a delle cuffie quindi che non permettono all'audio dell'altra persona di entrare nel nostro microfono quindi avviare ognuno la propria registrazione e in quel caso obbligatoriamente dovrete montare un audio sull'altro ma avendo indossato entrambi le cuffie vi confermo che il vostro audio non entrerà nel microfono dell'interlocutore e quindi anche il montaggio risulterà pulito e non difficoltoso da mettere insieme questa tecnica può essere utilizzata anche per esempio per fare un'intervista ma a proposito delle interviste faremo una puntata a parte dedicata dove vi spiegherò come registrare delle interviste direttamente da skype tramite alcune applicazioni quindi concludiamo questa breve puntata vi ricordo che potete scrivermi su instagram su twitter e sul nostro canale telegram e ci vediamo nella prossima puntata ciao